Afghanistan, prosegue il terrore. Questa mattina una forte esplosione ha scosso la zona ovest della capitale, Kabul. Intorno alle 9, ora locale, un'autobomba esplosa davanti una stazione di polizia, provocando, secondo un primo bilancio fornito dal Ministero dell'Interno, 14 vittime e 145 feriti. Una fitta nube di fumo ha coperto il cielo. Diverse ambulanze sono accorse sul posto per i primi soccorsi. Si teme però che il numero di vittime e feriti possa aumentare, anche perché si tratta di un'area densamente popolata. Secondo alcuni testimoni, la detonazione sarebbe stata seguita da colpi di arma da fuoco, circostanza però successivamente smentita dallo stesso Ministero degli Interni. A rivendicare l'attacco sono stati i talebani. Si tratta dell'ultimo episodio di un'escalation di violenza in corso nel paese, mentre gli Stati Uniti e i talebani sono impegnati in negoziati di pace in vista delle elezioni previste il 28 settembre. Secondo i dati forniti dall'ONU in Afghanistan, solo a luglio sono più di 1500 civili rimasti uccisi o feriti. L'episodio di oggi conferma purtroppo che al momento non vi è alcun rallentamento alla violenza.